Ciao ragazzi, oggi voglio dirvi una cosa. Qui sotto nei commenti vi volete scrivere qual è il vostro film preferito, così che io farò un video di un'ora e qualcosa, e voi lo potete vedere direttamente. Quindi scrivetemi qua sotto qual è il vostro film preferito e verso oggi, pomeriggio o domani appunto il film che avete scelto voi. Quindi, niente, era questo il messaggio che volevo dire e ditemelo per verso le 15. Va bene, ciao voglio!